Buonasera, non posso che parlarvi di intelligenza artificiale, nella medicina, in campo medico è davvero dappertutto e sono sicuro che ognuno di voi si sta facendo delle domande su questo grande mondo, dice ma ci servirà, non ci servirà, sarà utile, quanto ci sarà davvero utile. Allora prima di fare qualche esempio direi innanzitutto di capire insieme che cos'è l'intelligenza artificiale, allora per capire che cos'è l'intelligenza artificiale dobbiamo prima capire che cos'è l'intelligenza, quella reale, quella umana, l'intelligenza che cos'è, ed è una cosa non così ben definita, è un insieme di fattori interni e esterni, di linguaggio, di discorsi, di materia, di biologia, c'è l'uomo in mezzo e quindi è anche fatta di insiemi, di tradizioni, comunità, insomma non ha nulla a che fare con i neuroni computazionali, quelli digitali, quelli con cui viene definita appunto l'intelligenza artificiale, anche perché l'intelligenza artificiale di cui parliamo oggi, che viene definita così anche da me, ho appena scritto un libro, si chiama Cyberumanismo, dove parlo di intelligenza artificiale, ma a un certo punto dico fermi tutti, non si chiama intelligenza artificiale in realtà, perché non è veramente intelligenza, è semplicemente comunicazione artificiale, si comunica artificialmente, sono dei pappagalli stocastici che ripetono statisticamente delle parole, tecnicamente dietro c'è una sequenza logica secondo chi produce il contenuto, ma non hanno la più palida idea di cosa stiano scrivendo e quando applichi questo alla medicina uno ovviamente comincia a preoccuparsi, attualmente da un anno, un anno e mezzo è diventata famosa perché sono arrivati i large language models, large multimedia models, quelli che fanno le immagini, quelli che fanno i testi e sono quelli che oggi ci permettono di, sono degli ottimi assistenti di comunicare bene, ma la precisione di quegli strumenti è pressoché nulla, loro non sanno cosa stanno scrivendo, anche chi riproduce dice che non sa come fanno a ottenere quei risultati. Recentemente c'è stato un utente che ha detto scusate adesso io voglio che mi cancelliate i dati perché sono sbagliati, quelli che dice di me secondo GDPR in Europa deve farlo e loro dicono scusate ma noi sappiamo come fare perché la base dati è finita dentro delle reti neurali, non sono dati strutturati come siamo abituati fino ad oggi. E poi cos'è che sta arrivando? In arrivo è lì una cosa che si chiama AGI, Artificial General Intelligence, l'intelligenza artificiale generale, ovvero una sorta di intelligenza in grado di replicare i meccanismi con cui l'uomo impara. E quindi in teoria è come un bambino piccolo, lo fai crescere, ha stimoli esterni, dà degli output e piano piano cresce. E quindi questo farà sì che tutto quello che oggi richiede un addestramento per funzionare, probabilmente funzionerà anche senza. E qui ci arriviamo sicuro, è dietro l'angolo. Pare che sia già pronta e non ancora da parte di OpenAI e di altre, ce n'è una che si chiama Q-Star che è lì, pronta. Vediamo, ma non ci fa tanto paura a quello, può essere comunque uno strumento utile. Il problema è un altro, che queste sono scatole nere, cioè dentro, ma non solo non sappiamo cosa c'è, non solo loro non sanno cosa c'è, ma per di più sono nelle mani di terzi, cioè molti strumenti di intelligenza artificiale, anche in campo medico, dietro hanno un'azienda che mette insieme dati, a volte su modelli pieni di pregiudizi, poi lo vediamo, e che non sanno manco loro come mai. E soprattutto si può spegnere da un minuto all'altro. Pensate che nel 99% dei casi di tutti gli strumenti di intelligenza artificiale, ossia di 100 tali, dietro c'è sempre solo una o due o tre company. Sono sei oggi quelle che nel mondo hanno prodotto sistemi di intelligenza artificiale. E poi c'è un'altra cosa che questa forse può fare davvero paura, ed è, si chiama singolarità. La singolarità è un sistema di intelligenza artificiale che idealmente potrebbe arrivare, ma alcuni dicono che sarà possibile, altri dicono che ma non arriverà mai, siamo ancora nel mezzo di questa trasformazione, in cui non si sa nemmeno come farà ad imparare. E avrà forse, secondo la definizione della singolarità, avrà capacità diverse, superiori a quelle dell'uomo. Anche perché la singolarità tecnologica deriva poi peraltro da un pezzo della relatività generale di Einstein, in cui diceva che all'interno dei buchi neri, da quel momento lì in poi non sapeva più nulla, le nostre regole della fisica non valevano più, e quindi tutto sarebbe cambiato e anche la luce non poteva più tornare indietro. E allora John von Neumann nel 50 circa del secolo scorso ha spostato il concetto di singolarità dalla relatività generale all'intelligenza. E quindi questo potrebbe essere un momento di cambiamento, in bene o forse in male. Quindi oggi siamo di fronte a tutto questo. E soprattutto in campo medico, che cosa porterà? Allora, una cosa sicura, così come avviene per tutte le altre professioni in questo momento, è che ci saranno medici aumentati. Il concetto di aumentato è un concetto interessante perché non è integrato. Vi ricordate il transumanesimo? Quello dell'uomo che pieno di dispositivi diventerà sempre più una macchina, sempre più digitale, sempre più cyber. Però il cyber deve essere umanizzato. Noi forse non vogliamo diventare macchine, forse non vogliamo nemmeno farci sostituire dai robot. Ci sono professioni che apparentemente non possono sostituire l'uomo, ma in realtà sì. Tutte quelle intellettuali ormai ve le abbiamo capito. Poi c'è l'itraulico che dice scusa però, l'itraulico, abbi pazienza, quello è l'intelligenza artificiale. E invece ci sono i robot umanoidi che stanno per essere messi sul mercato nell'arco veramente di pochi anni e saranno un po' come i nostri smartphone. E questa è un'altra certezza. Ci sono tanti dubbi in questo mondo, ma ci sono altre tante certezze. E allora quando avrai in casa un robot da 3.000 euro che sarà in grado di replicare perché è stato addestrato su tutti i tipi di idraulici, su tutti i tipi di lavanderie, su tutti i tipi di vetri da pulire e avanti così finissino arrivare all'industria, il mondo sarà cambiato. Ma chi è dietro? Che cosa c'è? Cosa bisogna fare? E allora il medico aumentato è quello che invece utilizza e sfrutta. Dico spesso che i primi lavori a essere sostituiti dall'intelligenza artificiale saranno quelli che non usano l'intelligenza artificiale. Cioè tra un avvocato che per fare una lettera al volo di fida usa l'intelligenza artificiale, uno che non la usa, ci vuole sempre l'avvocato che dica è giusto quello che c'è scritto, ma quello che la usa ci mette molto meno e quindi è più competitivo. E questo vale ovviamente anche in campo medico. Ma quindi sarete, saremo, ci saranno esperti di tecnologia o di intelligenza artificiale o rimarranno medici? Perché questo è il punto. Io qui credo che ovviamente l'uomo debba essere al centro più che mai, perché altrimenti è un grosso guaio. E quindi certo, fino ad oggi non è che l'intelligenza artificiale è arrivata adesso, come sapete siete tutti del settore, nel mondo della diagnostica c'è da una vita, c'è da tanto tempo, esiste da molto tempo. E ovviamente con i suoi pro e con i suoi contro. I contro sono che a volte i modelli bah, lasciano a desiderare, su cui vengono addestrati. I pro sono che evidentemente sappiamo in molte disease, insomma, la capacità dei sistemi di AI nella diagnostica riesce a vincere in molte ricerche, ormai è provato, rispetto all'umano. Ma però ci vuole l'umano che verifichi, perché altrimenti è un problema, no? Anche perché ci vuole l'umano? Perché l'intelligenza artificiale è piena di bias. Quella, allora, fuori dal campo medico, quella con cui noi scriviamo il testo, ecco, non solo non sa cosa sta scrivendo, ma è anche influenzata ovviamente dai dati che gli vengono dati per addestrarla. E allora se cerchi, che ne so, fammi vedere una foto di uno che pulisce la casa, lui fa vedere una signora con il corpo. Fammi vedere la foto di un lago delinquente, tende a mettere una persona di colore. Cioè, è molto influenzata da questo. E quindi, come dire, anche qui c'è il rischio che senza l'umano si facciano danni, no? Adesso nella nuova legge è ancora un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, peraltro io ho partecipato alla Commissione, no? Che ha un po' definito le regole per l'intelligenza artificiale. In Italia c'è il divieto da parte dei giudici di utilizzare l'intelligenza artificiale per arrivare a delle sentenze. Certo, si possono usarla dietro, ma non possono essere emesse. Voi dite, eh, la miseria, arriviamo addirittura qua. Sì, è in campo medico, è ancora più pericoloso. I bias sono tanti anche lì. Modelli addestrati malissimo, pieno zeppo. Quindi è vero che sono 50 anni che ci si lavora, soprattutto sulla intelligenza artificiale per immagini, ma sono tanti bias. Nella maggior parte dei modelli di addestramento ci sono all'interno dati di una regione prevalente degli Stati Uniti e basta. È pieno di cose, non vengono a volte dichiarati. Per cui serve anche, proprio anche un impianto normativo, no? Che ci aiuti a capire questo. Oh, non è che gli uomini, noi umani siamo messi meglio, eh? C'è una ricerca della Harvard Medical School, molti di voi questa la conoscono, dove hanno scoperto che l'83% dei radiologi non hanno adottato il gorilla nella parte in alto a destra. Perché? Non perché erano degli incapaci, semplicemente perché erano concentrati su quello che dovevano vedere e non vedevano il gorilla. no? È incredibile, no? E poi l'intelligenza artificiale fa anche un'altra cosa, già accade, ha le allucinazioni. E non è una battuta, è un termine tecnico, ha proprio le allucinazioni. Cioè ogni tanto salta, pum! Salta fuori con cose che non c'entrano nulla. Provate, se già avete giocato sapete che cos'è. Tuttavia, dicevo che l'uomo aumentato, il medico aumentato, invece, quello è roba da fare subito, oggi, adesso. E allora ho detto, aspetta che vi faccio qualche esempio, no? Perché nella relazione medico-paziente non è male far risparmiare un mucchio di tempo. Ne ho le prove, oltre ad avere molti amici medici, ho un amico in particolare che ha detto, dai fammi vedere un po'. Allora gli ho fatto vedere a Londra, è un italiano, Londra, un urologo peraltro, e ha detto, aspetta che mi metto a guardare. Eh, lo sta usando bene. Come la sta usando? Lo sta usando così. Per esempio lui dice, vediamo se riesco a zoomare, se agisci come un consultant urologo nel cesto e scrivi una lettera al GP, dicendo che in inglese polite, professionale, perché altrimenti doveva prendersi l'italiano con cui stava, no? Che stava visitando. Poi farla di agnosi e andarla a tradurre nella logica del GP inglese, cioè è un bel passaggio, un'oretta di lavoro. E dice, guarda che il suo paziente ha 55 anni, fa questo, fa quell'altro, gli ho dato questo, gli ho dato quell'altro e fa merely report. E lui dice, certo, non c'è problema, e fa report. Eccolo qua, esattamente, lo fa giusto. È ovvio, ci vuole il medico che poi legga e dica, ah, aspetta un attimo. Però oggi con CiaGPT, che è quello che avete a disposizione tutti, senza andare a scomodare tecnologie ancora in arrivo, questa roba si può fare. Se incominciate a superare la fase del, dai, proviamo, è incredibile, perché a volte siamo pigri, no? Lavoriamo nel modo quello prima, quello precedente. In realtà proviamo ogni tanto. Senti, scrivi una lettera che dica questo, questo, quest'altra volta e lo fa bene. Oppure, papers, da leggere, da studiare. Bene, bisogna farlo, ci mancherebbe, ma a volte un bel riassuntino. Magari anche specifico sulle mie competenze, su quello che già io so. Questo è un PDF, fammi un riassunto. Anzi, sai che c'è? Ti faccio delle domande su di lui. Provate. E poi non solo. Oggi ci sono dei software carinissimi, uno di questi è Sintesia, per esempio, che permettono di, tu parli in italiano e te lo traducono in inglese, ma pari, pari, questo è lui. Gli ho fatto fare i video in italiano, cioè gli ho consigliato di fare, gli ho fatto vedere come si fa, non è che lo fa. E lui gli faceva i video in italiano e poi, per dare risposte consigli e poi clic. Non è lui. Scusate la musica. Labiale, via. Volete spedire un vostro video in russo, in spagnolo, in croato. Vai. Sintesia, boom, vi fate il vostro avatar, registrate la voce. Sintesia ce ne sono anche altri, c'è uno che si chiama HeyGen, è pieno. E potete incominciare a diventare più aumentati, potenti, perché questa è realmente una forma di superpotere, no? Fino a quando non ce l'avranno tutti. E quindi se non lo farai, sarà indietro. Per ora è un superpotere, usiamolo, no? Insomma, una cosa certa è che tutto sta andando molto, molto velocemente. In un anno e mezzo c'è stata questa enorme trasformazione, che ci ha portato da non avere nulla a disposizione, a parte noi che eravamo del settore, e ad avere tutto ciò. E la capacità di calcolo, la potenza di questi strumenti sta aumentando in modo straordinariamente esponenziale. Talmente tanto che non ci stiamo dietro noi, non ci sta dietro ovviamente tutta la parte di leggi, di regole, di norme, e non ci stanno dietro i vari settori, ma può essere una grande opportunità per tutti. Arriveremo ai medici robot? Io spero di no, anche perché sono per ora pericolosissimi, come abbiamo visto prima. Ma ci sono anche altri temi che peraltro ho trattato nel mio libro, e uno di questi è ad esempio l'etica. L'intelligenza artificiale attualmente non ha etica, non gliene frega assolutamente nulla, non è importante, dobbiamo inserirla, ma quale etica? Ci sono varie etiche nel mondo, ognuno poi ha la propria morale, eccetera, però ci vuole, oggi non c'è, non gliene frega nulla. Così come la sicurezza, in campo medico i dati, e la sicurezza dei dati è fondamentale. Una cosa sicura per chiudere è che l'uomo deve essere al centro, dobbiamo sempre ricordarci di volerlo, di pretenderlo, e dobbiamo anche pretendere di collaborare con le macchine senza esserne noi, senza essere noi a lavorare per le macchine, per cui l'uomo ha aumentato un po' il messaggio che vi lascio, è il mantra, oltre a qualche suggerimento pratico di questo speech di oggi. Grazie. Marco Polesani Garzola, periodo codicitale, docente iscrittore, membro del Comitato per l'intelligenza artificiale per la prescrizione del Consiglio, esperto di linguaggimento per la trasformazione digitale. Eccoci. Vorrei dire, prima di tutto, ma una domanda te la voglio fare. Hai detto che sono tutto molto veloce, un anno e mezzo e presto tutti dovremmo diventare esperti di intelligenza artificiale, ma in questo anno e mezzo tutti gli esperti che ce ne hanno parlato, chi erano? Che cos'è che rende uno come te un esperto di intelligenza artificiale? E' una bella domanda, vuol dire sperimentare, provare, conoscere delle caratteristiche, ma soprattutto capire che cosa c'è dietro. Sono strumenti per cui è molto facile usare la parte davanti, un po' come in attività digitale. Guardiamo, diciamo, sono bravissimi, sono bravissimi, sono bravissimi, chiaro, se chiedi la differenza tra gli interi e i web, spesso non la sanno. Quindi la competenza è in senso ampio, sono tanti, sono bravi a diventare. Grazie a Marco.